Bene carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, bentornati o ben ritrovati sulla frequenza della nostra radio per una nuova puntata del ciclo di catechesi di Maria Nunquansatis che sta affrontando ormai da undici puntate, se non ricordo male, questo dovrebbe essere l'undicesima, il tema molto bello di Maria Santissima, corredentrice, mediatrice e avvocata dell'umanità. La volta scorsa, il 24 di dicembre, è completato il tema della mediazione mariana vedendo come la liturgia della Chiesa, in modo particolare la splendida messa in onore di Maria Vergine, Madre e Mediatrice, interpreta la mediazione mariana e quindi la offre come oggetto di fede a noi fedelico, ricordando sempre che quando qualcosa entra nella liturgia della Chiesa, vi entra in maniera autorevole, nel senso che la liturgia della Chiesa ci dà la norma della fede. E quindi è parso insomma bello ed edificante concludere in questo modo perché siamo proprio nel cuore del mistero ecclesiale con questa splendida messa. Oggi introduciamo l'ultima parte, quindi avremo ancora qualche puntata per questo ciclo di catechesi, poi presumibilmente ce ne sarà uno nuovo su un nuovo argomento. Dobbiamo però ancora affrontare il tema di Maria Santissima, avvocata dell'umanità. Un tema molto bello e che se vogliamo ci riempie ancora di più di gioia, di gaudio, di consolazione immensa perché fa trasparire non soltanto la bontà straordinaria e delicatissima di Maria nei nostri confronti, ma anche un'altra sua bellissima funzione che solo lei tra l'altro può svolgere così come la svolge, non soltanto perché ne ha il cuore, che è sempre la cosa principale, ma anche perché ne ha i titoli, come non mancheremo di vedere. Anche di questo titolo, come vedremo, parla chiaramente, utilizzando anche il nome di avvocata, vedremo il concilio Vaticano II, ossia l'ottavo capitolo della Lumen Gentium, quello appunto dedicato alla figura di Maria Santissima e al suo rapporto con Cristo e con la Chiesa. Quindi certamente questo sarà un punto di partenza normativo per il nostro discorso perché anche se non c'è, come sappiamo per nessuno di questi titoli, una formulazione dogmatica ufficiale che gli attribuisca la Madonna in senso tecnico, in senso stretto, come già sussistenti, però nella dottrina autentica della Chiesa, quella di un concilio, ci sono già poste tutte quante le basi sostanziali. A mio modestissimo avviso, insomma, ma questo non è tanto un avviso, cioè basta semplicemente leggere e intendere le formulazioni, quindi l'italiano se uno lo sa leggere, insomma, è il testo originale latino, insomma, quindi ci sono già scritte tante cose che fanno ben sperare, nell'auspicata, almeno da me personalmente, io auspico, come dire, cordialmente una cosa di questo genere, che si possa divenire a questo ultimo, a questo quinto e credo ultimo dogma mariano, che appunto è quello che definirà, definirebbe, diciamo così, ufficialmente la Madonna come corredentrice, mediatrice e avvocata dell'umanità, con tutto chiaramente il corollario dottrinale, dogmatico e con tutti i risvolti che stiamo vedendo durante queste conversazioni. Dubbiamente questo porterà un grandissimo beneficio alla Chiesa. Certamente dobbiamo considerare, si perdono se faccio qualche piccola introduzione, che nella Divina Providenza, non casualmente, insomma, i dogmi, grossi dogmi mariani, quindi quelli formulati per intervento pontificio e a mio modestissimo avviso, sarà un pontefice se questa cosa si farà a formulare il quinto dogma mariano, così come è stato per l'Immacolata e così come è stato per l'Assunzione. Vogliamo fare un pochino, dato che siamo all'ultimo dell'anno, possiamo fare un po' di divagazione, possiamo, come dire, formulare in questa notte al Signore qualche sogno, qualche desiderio. Ecco, nel 1800 l'Immacolata, nel 1900 l'Assunta, speriamo che entro il XXI secolo si faccia la corredentrice, insomma, siamo già quasi nel 2019, diciamo che tra l'Immacolata e l'Assunzione ci sono passati quasi cent'anni, dal 1854 al 1950. Ci manca un po', se il nostro Signore rispetta i tempi, insomma, per la previsione ha passato i 96 anni, e quindi diciamo che nel 2046 forse si potrebbe fare... ci manca ancora un pochino, dobbiamo aspettare ancora un po'. Ecco, però noi possiamo anche esprimere e formulare al nostro Signore il sogno che magari i tempi possano essere un pochino più rapidi, anche perché c'è sempre, siamo sempre sotto la deliziosa promessa di Maria Santissima Fatima, di cui, a mio avviso, si intravede già all'orizzonte l'alba, alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Stiamo passando attraverso tempi tribolati, certamente, sia da un punto di vista di... come dire, di problematiche inerenti alla società civile, sia da un punto di vista di problematiche inerenti alla vita della Chiesa, che tutti conosciamo, però dentro questo tumulto già si intravedono, a mio avviso, dei prodromi lieti, nel senso che, almeno io credo, dentro la nostra amata Chiesa, come dire, le marce stiano cambiando, stiamo cambiando passo, stiamo camminando verso la direzione giusta, verso la strada buona, certamente tante cose hanno ancora da uscire, insomma, come Papa Francesco ha molto seriamente detto nel discorso fatto recentemente alla Curia Romana, prima degli auguri di Natale, se mi posso permettere, insomma, se le sue ore me lo concedono, ecco, di ascoltarlo con attenzione, insomma, per la sua, a mio avviso, a mio personalissimo avviso, bellezza e serietà. Però stiamo incamminati fiduciosamente verso l'alba della speranza, quindi verso questo trionfo del cuore immacolò di Maria, che è veramente la bussola che deve guidare il nostro cammino e anche la promessa che deve far sempre restare nella pace e nella Curia dei nostri cuori. Possiamo anche fare un altro sogno, dato che stiamo in tema di sogni, cioè ipotizzare, però qui adesso sta parlando proprio, non so neanche se sta parlando di Leonardo Maria Pompei, quindi col don davanti, o semplicemente facciamo Leonardo Maria Pompei, come cristiano cattolico e come devoto di Maria Santissima. possiamo formulare al Signore un altro sogno, insomma, quindi di creare una sorta di collegamento, di relazione bionivoca tra il trionfo del cuore immacolato di Maria e la formulazione del quinto dogma? Io mi permetterei, insomma, che stanotte, ecco, dato che si possono passare le notte del 31 in tanti modi, insomma, facendo le baldorie mondane oppure ai piedi di Gesù e di Maria, io sinceramente preferisco questa seconda ipotesi ormai da anni, beh, questo è un piccolo sognetto che i sogni sono desideri, credo che non sia peccato sognare, quindi credo che nessuno si possa o si debba alterare per questo sogno che si può anche dire al nostro Signore, insomma, ci sono i mondani che offrono i sogni mondani, d'accordo, quando vedono una stella cadente esprimono un desiderio, ecco, noi quando contempliamo questa notte il fulgore del nuovo anno che sorge sotto l'egida della Madre di Dio come ogni anno nuovo, penso che possiamo dire al nostro Signore si avvicinino, si accelerino in questi tempi dell'alba, ecco, dell'alba nuova che sorge nella Chiesa di cui qualche cosa già si comincia a intravedere, insomma, sembra che la notte, come dice San Paolo, sia avanzata, ecco, che il giorno si avvicini e cominciano a vedersi dei crepuscoli di aurora per chi ha occhi per poterli vedere, a mio avviso sono visibili, per cui, ecco, anche dentro questa serena speranza mariana, possiamo salutare con ringraziamento, come spero che molti faremo durante la Santa Mesa di questa sera, questo 2018, e dare il benvenuto al 2019 come un nuovo anno certamente di grazia del Signore. Bene, adesso introduciamo il tema di Maria Santissima Avvocata dell'umanità che considera un ulteriore aspetto ecco, di Maria Santissima, ovvero quello della sua opera incessante di intercessione al nostro favore. Noi sappiamo che, anzitutto, la Sagra Scrittura, San Giovanni Apostolo, in maniera particolare, nelle sue lettere, dice queste testuali parole, adesso non ricordo la citazione, e posso anche andare a... anzi, lo faccio in modo da dare che siamo un po' più precisi. San Giovanni dice queste parole nella sua lettera. Primo Giovanni, 2, scavitolo secondo, versetto 1, dice, figlioli mie, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato abbiamo un Avvocato presso il Padre, Gesù Cristo è giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Quindi, l'Avvocato Gesù. Chi è l'Avvocato? L'Avvocato è per Antonomasi, sarebbe in teoria un bel lavoro, un bellissimo lavoro, perché l'Avvocato è chi difende qualcuno o in una giusta causa, quando è una difesa civile, o da qualche accusa che gli viene rivolta contro quando è una causa penale. in una causa penale c'è il pubblico ministero, ossia la pubblica accusa, e poi c'è l'Avvocato e poi c'è il giudice. Ecco, perché Gesù è l'Avvocato presso il Padre? Gesù Cristo è giusto? Allora, perché il termine chiave è giusto, cioè lui da uomo ha adempiuto, come disse già nel battesimo massaggio a Giovanni Battista, ogni giustizia. Quindi, il verbo fatto carne presenta a Dio Padre con il suo ingresso in cielo una vera umanità come la nostra, completamente ammantata di giustizia, che si è caricata per il nostro amore di tutte le nostre giustizie, distruggendole, distruggendole, lavandole con tutto il suo sangue. e per cui può dire a nostro favore al Padre, Padre, fermo, abbi pietà di loro, ho pagato io, ho soddisfatto io per tutti, tutto quello che l'uomo doveva fare e non ha fatto, la gloria che doveva darti e non ti ha dato, il culto che doveva renderti e non ti ha reso, tutto, ho fatto tutto io e per tutto il male che hanno fatto loro ho pagato tutto io. Quindi, mi raccomando, adesso scenda la tua grazia, la tua benedizione, la tua misericordia, il tuo perdono sui membri della razza umana perché ci penso io. D'accordo? Ecco, Gesù lo può dire questo qui. Quindi, in questo senso, Gesù, in quanto giusto e in quanto vittima di espiazione per i peccati del mondo intero, assume questo ufficio, ci difende, prende la nostra parte, a cuore la nostra causa. Qual è la nostra causa? La nostra causa fondamentale è la salvezza delle anime. San Pietro, nelle sue lettere, scrive mentre conseguite la venta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Ecco. È un'impresa questa qui. D'accordo? Ora, attenzione, e qui mi permetto nuovamente di citare Papa Francesco. Come c'è una difesa per una anzitutto giusta causa, ma qui noi siamo anche sotto accusa. Perché c'è qualcuno che non fa l'avvocato ma fa l'accusatore. Il Satan. Satan significa avversario, ma secondo alcune possibili interpretazioni è anche colui che accusa, l'accusatore. Quindi, questi compiti speculare l'avvocato e l'accusatore. San Giovanni, sempre nel libro dell'Apocalisse, definisce il diavolo l'accusatore dei nostri fratelli. Abbiamo il libro dell'Apocalisse 12.10 Allora udì una gran voce nel cielo che diceva ora si è compiuta la salvezza, la forza, il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Dobbiamo prendere sul serio questa frase qui, perché Satana svolge il compito di accusatore a vari livelli. Uno, davanti a Dio, questo lo vediamo nella Sacra Strittura per esempio, per chi la conosce, nei primi capitoli del libro di Giobbe. i primi capitoli del libro di Giobbe. Satana va presso, si presenta al trono di Dio e dice e Dio lo provoca e dice guarda da dove vieni? Mi sono fatto un giro sulla terra, hai visto il mio servo Giobbe quanto è bravo? Come mi serve? Lui si, dice eh sì, beata a te, per forza che ti serve così. Gli hai dato tutto, c'ha una bella moglie, c'ha i figli, c'ha i beni, c'ha i soldi, c'ha tutto. Cominciamo a raschiare qualcosina e poi vediamo che succede. Il nostro Signore accondiscende a questa provocazione di Satana e comincia, alla fine questo si ritrova ripulito tutto e con una piaga maligna dalla testa ai piedi. Quindi questo ruolo di accusa gratuita, dice sì, questo è, di cosa sta accusando Giobbe? Giobbe dice, questo è buono per convenienza, d'accordo? Ma in realtà è cattivo, tu prova a vedere se lo storsichi un po', che cosa succederà, no? E Giobbe non era degno di essere accusato perché poi supera brillantemente la prova e alla fine il libro di Giobbe viene reintegrato non soltanto tutti i beni che aveva ma gli viene dato molto di più di quello che aveva dopo aver superato la prova e dopo aver fatto che cosa? Non aver attribuito a Dio nulla di ingiusto, dice il testo, e aver benedetto e ringraziato il Signore anche in quelle situazioni a proposito della messa di ringraziamento che celebreremo questa sera che il nostro Signore si ringrazia sempre di tutto rendere grazie sempre in ogni luogo diciamo nei prefazzi, no? Ecco, però c'è un'altra accusa a volte Satana fa delle accuse come dire fondate quello quello è un disgraziato quello ha fatto un sacco di di peccati tu non gli puoi fare grazie perché facendo quei peccati la grazia era persa facendo quei peccati si è messo dalla parte mia da ragione a me quindi quell'anima appartiene a me e tu non me la puoi togliere prima forma di accusa colui che c'ha attenzione che questa forma di accusa dice San Giovanni questa è parola di Dio questa qui l'accusatore dei nostri fratelli colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte cioè quello sta dalla mattina alla sera a parlare male di noi davanti a Dio parlare male di noi ecco perché attenzione gli accheroni e i maldicenti ancora Papa Francesco sta dicendo e spesso e spesso dice non dice soltanto cose false non dice calunnie come diceva per esempio a Giobbe a Giobbe era calunniato d'accordo se gli ha come dire ha insinuato cose che si sono poi dimostrate non essere vere ma molte volte dice cose verissime perché parla dei nostri peccati reali di quelli che abbiamo fatto veramente a quale scopo buttarci fango a dire al nostro signore questi non meritano niente non gli devi fare nessun tipo di grazia agiresti contro la tua giustizia e queste anime sono mie tu non me le puoi togliere perché qua questo lo fate la mattina o la sera in continuazione prima forma di accusa poi c'è un'altra forma di accusa da parte del diavolo più cattiva l'accusa che fa la nostra coscienza attenzione che le accuse di satana sono molto 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 diverse dalla conversione e dal pentimento che il nostro signore ci suscita che comporta anche la presa di coscienza dei nostri peccati e l'accusa di essi in sede sacramentale in confessionale no oh ma il diavolo accusa non al fine di farti convertire ma al fine di farti disperare l'accusatore viene e ti dice guarda che hai fatto schifoso maledetto disgraziato ah hai fatto hai abortito bah delinquente adesso questo qua non verrà mai più nel pianeta terra ah e vatti pure a pentire tanto questo è morto e mica risuscita tutte queste cose brutte negative capito ah hai tolto la fama a quello guarda 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 per colpa tua come 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 sei ridotto e mo capite oppure hai perso la verginità disgraziata eh e adesso chi te la ridà la verginità adesso non ti metti a fare la verginella tanto ormai è finita tutte queste cose qui guardate che nelle coscienze di noi esseri umani sono dei macigni spaventosi capite questo ruolo di accusatore a volte va a buon fine perché Giuda ha fatto la fine che ha fatto perché dopo aver fatto quello che aveva fatto che era gravissimo ha ascoltato queste ulteriori brutte cose bravo è andato a vendere per 30 denari il figlio di Dio bel capolavoro quello che ti aveva amato così tanto si era fidato di te fino alla fine ti ha fatto pure le gentilezze durante l'ultima cena ti ha fatto sacerdote e vescovo perché l'ha ordinati ha ordinato anche Giuda nell'ultima cena bravo complimenti congratulazioni tu pensi che per te ci possa essere perdono chi è che ha fatto un peccato grosso come il tuo da che mondo è mondo eh che faccia di presenti davanti a Gesù Cristo che è già tutto quanto insanguinato e massacrato per colpa tua Giuda sei andato a impiccare quindi questa è una cosa terrificante quindi l'accusa che lui rivolge alla nostra coscienza è terribile e se noi fossimo abbandonati da soli a noi stessi quindi attenzione l'accusa presso Dio l'accusa presso la tua coscienza e l'accusa presso il prossimo e l'accusa presso il prossimo perché noi potremmo fare alcuni peccati per esempio che non sono privati ma sono pubblici cioè sono in qualche modo come dire visibili percepibili specialmente oggi insomma pensate a alla gente esposta ai politici alle cose che te le tirano fuori il video dei vent'anni fa dei trent'anni fa se ne vedono in rete di tutti quanti i colori allora c'è un'altra operazione di accusa anche questa maledetta perversa che è l'accusa presso gli altri al fine di distruggerti al fine di diffamarti al fine di screditarti al fine anche qui di portarti per un altro verso alla disperazione perché quando una persona si ritrova come dire diffamato adesso non posso dire parole se possono dire cioè che perde completamente la faccia la buona fama dinanzi alle persone dinanzi a chi ti spenna in giro ed è in questo senso che Papa Francesco parla del terrorismo delle chiacchiere l'avrete sentito dire questa espressione no? questo è terrorismo allo stato buono questo qui perché tu ammazzi una persona da vigliacco alle spalle seminando maldicenze e cose di questo genere distruggendo e diventando il collaboratore numero uno di Satana cioè chi fa capite chi sparla chi chiacchiera chi accusa chi punta il dito nonostante che a volte qualcuno pensi di farlo anche per 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 alti valori è collaboratore di Satana assomiglia a lui questa roba non c'è in Gesù Gesù è l'avvocato difensore l'abbiamo visto e difende anche l'indipendibile perché che ma noi vogliamo essere difesi noi cioè ma noi della razza umana ma che ma che c'è stata da difendi io facciamo così parlo per me cioè io mi sento io mi sento peccatore d'accordo forse adesso per grazia di Dio spero perché poi chi di noi può sapere con certezza di stare in grazia di Dio dice il consiglio dei Trenti io spero adesso come adesso di non combinare guai troppo grossi lo spero d'accordo ma può darsi che di molte cose non ne sia nemmeno consapevole che ne so io d'accordo che cosa vuoi difendere tu noi della razza umana che abbiamo combinato abbiamo fatto soltanto che guai in continuazione ogni membro della razza umana è responsabile della morte del figlio di Dio capito ma che te vuoi difende eppure Gesù Cristo difende pure l'indifendibile ecco quindi dobbiamo focalizzare questa operazione no ci abbiamo una triplice modalità di accusa da parte di Satana ecco perché abbiamo bisogno di un avvocato perché l'avvocato poi c'è anche un problema al di là poi di chi ci accusa c'è anche un problema come dire strutturale d'accordo strutturale è questo qui che quando dovremmo andare dinanzi al nostro signore che al termine della nostra vita nostro signore come dire si presenta come giudice questo ciò non segnala la chiesa perché c'è il giudizio particolare poi il giudizio universale a che gli andiamo a raccontare scusate se parlo un po' di romano che cosa gli andiamo a raccontare cioè io vorrei un buon avvocato insomma davanti davanti al nostro signore ripeto non perché uno che lo sa cioè non è detto che uno in atto sia un criminale un delinquente si spera di no però comunque abbiamo bisogno ma chi di noi è guardate comunque come dice Gius chi di noi è giusto davanti a Dio chi si può presentare davanti a Dio sereno a dire vai signore forza metti pure che tanto qua è tutto ok insomma penso a nessuno penso no capite penso a nessuno chi di noi non ha delle cose nella propria esistenza e le cose che forse non vorrebbe mai aver fatto che ha detto delle cose che vorrebbe non aver mai detto che ha fatto degli errori che non avrebbe mai voluto fare insomma no perché un po' c'è l'ignoranza un po' c'è la debolezza un po' c'è stanno le passioni un po' qualche volta ci può essere pure la cattiva volontà perché troppo qualche volta c'è pure quella ma come stiamo messi noi c'è bisogno di un avvocato allora il primo avvocato è Gesù troppo chiamato avvocato presso il padre però poi qui prima ancora di giungere alla Madonna che tanto non si offende insomma questo lo dobbiamo dire perché vedremo poi cosa dice anche il concilio tutte le funzioni mariane hanno un princeps analogatum si direbbe così insomma con una terminologia classica quindi un paradigma fontale originario e che ne giustifica anche l'esistenza e la legittimità in qualcuno che è di più di Maria cioè in Gesù Cristo che è il nostro Dio oltre che vero uomo come noi e poi per quanto riguarda l'avvocato avvocato ce ne abbiamo due ce ne abbiamo prima della Madonna ce ne stanno due perché non c'è soltanto Gesù Cristo ma c'è anche il consolatore nel Vangelo di San Giovanni tante volte lo Spirito Santo viene definito con il termine consolatore così è tradotto nella traduzione tra l'altro antica della CEI nella nuova più opportunamente viene però più opportunamente perché più correttamente no però un po' meno comprensibilmente perché una persona comune quando sente dire paraclito che significa perché il termine greco è proprio quello è paraclito ma paracaleo in greco significa chiamare presso quindi dire che lo Spirito Santo è il paraclito vuol dire attribuire anche a lui la funzione di avvocato difensore anche lui è chiaro che la la difesa perché viene tradotto nella traduzione della CEI del 74 come consolatore perché parte della difesa si svolge dentro il nostro cuore come con la consolazione e noi non possiamo sempre sentirci come dire massacrati o con la coscienza a pezzi per quello che abbiamo fatto cioè c'è bisogno anche di chi te dica una parola buona cioè la parola buona che significa non è negare il peccato fare finta che non c'è stato d'accordo o fare facili giustificazioni no assolutamente però noi dobbiamo anche pensare che generalmente noi esseri umani è per questo che Gesù non ama chi giudica e chi condanna perché le nostre azioni io vi parlo cioè qui parlo anche un pochino da sacerdote un sacerdote ha la grazia e la grande responsabilità mi vorrebbe dire sotto certi aspetti la disgrazia perché poi cioè l'amministrazione di questa cosa è una cosa molto delicata di sentire le persone di vedersi davanti a sé aprire le coscienze capite e a volte in maniera molto molto quindi che cosa esperimenta proprio vede con gli occhi un sacerdote lo vede dentro di sé ma vedendolo anche fuori di sé e sempre ne giunge ad avere proprio l'assoluta come dire certezza empirica cioè che un uomo veramente cattivo proprio cattivo come il diavolo cattivo difficilmente esiste cioè anche quando si sia stati in ansia delle vite che non hanno fatte proprio da tutti i colori proprio un disastro un guaio se tu vai a vedere tutto il contesto certo i disastri si sono stati ma quanto quella persona deve esserne giudicata responsabile quindi prendendosi sto peso sulle spalle senza nessuna circostanza attenuare per esempio gli avvocati che fanno gli avvocati gli avvocati se uno è l'avvocato serio d'accordo non gli avvocati che vogliono fare gli avvocati solo per fare i soldi perché ci sono due modi di fare gli avvocati perdonatemi insomma che parlo di qualcosa che ha caratterizzato un tempo della mia esistenza l'avvocato può fare questo qui può fare l'avvocato io ti difendo ma ti difendo nella verità cioè se tu mi vieni a dire che tu l'hai ammazzata quella persona cioè io nel processo non cercherò di far dichiarare la tua innocenza cioè che il fatto non l'hai commesso d'accordo ma che non ho però se tu mi spieghi e mi racconti bene la situazione cercherò di farti dare qualche attenuante cercherò anziché di farti dare 30 anni te ne faccio di arrivare a 5 a 6 d'accordo questo è un grande avvocato poi c'è l'avvocato senza scrupoli che dice l'hai ammazzato racconta un po' bene vediamo un po' ci possiamo inventare c'è qualche alibi c'è qualche cosa c'è qualche falso testimone ti faccio assolvere ecco quindi allora gli uomini sono tutti difendibili nel primo senso d'accordo perché se una persona ti racconta bene quello che ha vissuto le situazioni tu vedrai sempre si acci picchia insomma cioè la situazione è ma sto poraccio sta poraccio ma tu nei panni suoi uno come pretesi ma tu che avresti fatto ecco perché io vi prego figliori miei ascoltatori vi metterei in ginocchio state perché queste cose qui le può capire perché io credo che tra gli esseri umani queste cose si possono capire solo se uno ha un grande amico e magari questo grande amico gli apre completamente il cuore e gli racconta la sua esistenza ma se non queste cose qui le persone credo che giustamente si vergognino e non le vanno a dire in giro capite però allora il puntarsi cioè l'inveire il giudicare anche una persona che sembra cattiva o che magari ha atteggiamenti esteriori che sembrano cattivelli ma se guardate una persona che è cattivelle anche quelle proprio cattivelle cattivelle se il signore le illuminasse se si facessero aiutare anzi andrebbero a vedere tutte quante le fonti di alimentazione di quelle cattivelle che sono quasi sempre ferite ricevute frustrazioni e tutte robe di questo genere qui capite allora il diavolo boom hai fatto questo ah è finito capito Gesù dice no calma hai fatto male d'accordo perché non hai fatto bene hai fatto male però c'è da considerare questo c'è da considerare questo c'è da considerare quest'altro allora perché lo spirito santo ha questa funzione perché lo spirito santo fa questa cosa dentro il nostro cuore cioè mentre Gesù San Giovanni ci ha detto abbiamo un avvocato presso il padre Gesù Cristo è giusto quindi Gesù Cristo ci para diciamo così dalle accuse che il diavolo rivolge giorno e notte ci ha detto San Giovanni presso Dio e lì lo ferma il nostro signore ma noi abbiamo anche le accuse che ci piovono come macini dentro la nostra coscienza e non è è il diavolo che ce le pompa dentro le orecchie in continuazione di delinquente disgraziato non ti vergogni per niente chi? tu? mo te va pure a confessare c'è pure il coraggio a una chiedere perdono ma non ti vergogni schifoso schia tutte queste cose qua l'hai fatta troppo grossa è irreparabile ma non ti vergogni e allora qui noi ci abbiamo bisogno di qualcuno che dentro che dentro il cuore ci dice oi figlio mio sì d'accordo calma però sappi che il signore è buono sappi che il signore è misericordioso sappi che il signore vede tutta la tua vita conosce tutte le sue meglio di te d'accordo sa meglio di te come hanno influito tante situazioni quindi tu fate un buon esame di coscienza vate a fare una bella confessione ma vattela a fare con il cuore pieno di fiducia e di speranza porta tutto a Gesù è tutto distrutto nel suo sangue e poi non ci pensa più noi abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo dica anzitutto nel cuore poi certo se troviamo qualche buon sacerdote che ce lo dice anche devi isumeglio ancora no? eh ma se non ci fosse qualcuno che nel cuore ci dà una mano rimarremo rimarremo assolutamente completamente succubi soccombenti dinanzi a una violenza del genere perché guardate che il diavolo è cattivo ecco perché scusate se mi ripermetto di dire per favore ecco non diamo ma forte al diavolo le chiacchiere le maldicenze le murmurazioni i puntari il dito i giudizi per favore li dobbiamo seppellir cioè dobbiamo prendere coscienza che agire in questo modo significa essere i collaboratori del diavolo chi di noi vuole essere collaboratore del diavolo deve andare a fare proprio il male deve andare a distruggere deve andare a lacerare i cuori deve andare a mettere dei pesi sulle coscienze altrui non credo che ci sia nessuno ecco allora lo spirito santo svolge questa funzione dentro il nostro cuore Giovanni 16.7 dice queste parole ora io vi dico bene per voi che io me ne vado perché se non me ne vado non verrà a voi il paraclito ma quando me ne sarò andato ve lo manderò ancora 14.16 io prego che il padre degli vi darò un altro paraclito perché rimango con voi per sempre ancora Giovanni 15.26 quando verrà il paraclito che io vi manderò dal padre lo spirito di verità che procede dal padre mi renderà testimonianza che ci dice lo spirito santo guarda che Gesù è morto per te guarda che ha versato tutto il suo sangue per te guarda che alla tua anima Gesù ci tiene gli vuole bene fino a quando starai su questa terra c'è sempre speranza Gesù lo vuole portare in cielo quindi qualunque cosa sia successo non ti disperare non ti preoccupare abbi fede abbi fiducia ancora Giovanni 14.26 ma il paraclito lo spirito santo che il padre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto quindi ci abbiamo Gesù il nostro avvocato presso il padre e ci abbiamo lo spirito santo paraclito o consolatore come preferite che ci difende dentro la nostra coscienza che ci difende dentro la nostra coscienza purtroppo siamo sguarniti non ci abbiamo difensori agli occhi del prossimo perché qui agli occhi del prossimo sulle accuse che ci vengono dal prossimo gli avvocati difensori ci possono certamente possiamo pregare allo spirito santo che ispiri pensieri di comunione di pace o di cose di questo genere insomma se qualcuno svolge la funzione di accusatore o di accusatrice nei nostri confronti fermo restando che per favore non troviamoci mai nelle condizioni di dove essere accusatore degli altri anche perché Gesù nel Vangelo ha detto delle cose molto forti su questo perché questa è una cosa che Gesù dispiace tanto quando dice non giudicate non sarete giudicati non condannate e non sarete condannati nel Vangelo di Luca questo è il capitolo 6 ve lo leggo testualmente dice non giudicate non sarete giudicati non condannate non sarete condannati la premessa di questo è siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro perdonatevi sarà perdonato datevi sarà dato attenzione una buona misura pigiata scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio ricordiamo anche la parabola del servo spietato cioè quello gli condona 10.000 talenti di debito di debito e quello va a far pazzo per 200 denari di credito lo punirà con rigore assegnando il posto tra gli infedeli quindi non ci mettiamo in condizione perché chi di noi ripeto può comparire davanti al Signore sereno e tranquillo e può mettersi può ergersi capite ogni tanto qualcuno che ha il ditino puntato facile comincia a dire eh ma Gesù Cristo agli iscrivi ai farisei gli ha detto serpenti e razza di viper scusate se sono così esplicito oppure eh no però ha preso la frusta è entrato nel tempio di Gerusalemme e ha fatto man bassa calma ma c'è una piccola differenza tra me e Gesù Cristo o no cioè Gesù Cristo è l'unico che può fare quella cosa punto per due motivi primo perché Gesù Cristo è perfettissimo cioè cioè tu per poter dire a una persona serpente vipera come erano realmente i farisei tu non lo devi essere stato mai serpente e vipera e tu sei sicuro che in vita tua non hai mai fatto il serpente e la vipera cioè serpente vuol dire uno che spruzza veleno che spara veleno in giro come facevano loro che asseminavano odio e veleno contro Gesù questo facevano i farisei e ma bisogna vedere quando gliel'ha detto come gliel'ha detto perché gliel'ha detto a che titolo in quali vesti numero uno serpenti razza di vivere gli era detta alla fine del ministero dopo che per anni Gesù ha avuto toni dolci pacifici mansueti e rispettosi nei loro confronti uno numero due gli era detto perché glielo poteva dire come uomo perché non era come loro numero tre gli era detto perché glielo doveva dire come Dio perché dopo che tu non hai ascoltato la dolcezza ti devo mettere dinanzi alla giustizia ma questo lo può fare lui io personalmente questa è un'idea mia personale sono convinto che nessun altro può fare una cosa di questo genere nessuno potrebbe farlo soltanto la Madonna ma la Madonna come vedremo non lo fa la Madonna questa cosa non la fa capite non la fa proprio l'unica che potrebbe farla questa cosa se c'è una cosa che la Madonna non farà mai è questo così come quando è entrato a purificare il Tempio Gesù Cristo c'è entrato ha fatto questo gesto come Dio perché quella è la casa sua quella lì quella è la casa sua quella lì quindi non significa che non bisogna ma nel modo di rifare le stesse cose non possiamo prendere a paradigma queste cose che Gesù ha fatto come unico che poteva farle cioè mentre l'umiltà e l'amitezza di Gesù Cristo che è molto più difficile nell'Aposte non la devono imitare tutti queste cose Gesù le ha fatte a titolo personale quello che possiamo trarne certamente è il valore la casa di Dio non deve diventare un luogo di mercato ma non è che io posso prendere la frusta dentro la chiesa mia e frusto la gente se urla in chiesa capito cioè mica posso fare così cioè dobbiamo cioè bisogna un attimo attenti a queste cose no? ecco abbiamo visto quindi e ora c'è sta la Madonna la introduciamo soltanto perché poi cominciaremo la prossima volta vedendo il concilio la Madonna perché può assumere questo nostro questo ufficio quindi la terza perché è una membra della razza umana ed è una membra della razza umana perfettissima cioè lei può perorare la nostra causa presso l'Altissimo perché? perché c'è i titoli perché lei all'Altissimo non gli ha dato altro che gloria e onore in tutto e per tutto e si sente vicino a noi perché si sente è un membro della razza umana nei cui confronti nutre un amore immenso non soltanto come membro della razza umana ma come vera madre nostra vedremo che anche l'essere avvocata di Maria Santissima è radicata nel suo essere contestualmente madre di Dio come la veneremo nella messa di domani e però anche madre di ogni essere umano che del corpo mistico di Cristo ne è parte quantomeno per vocazione e vedremo che la Madonna svolge questa funzione di avvocata nei nostri confronti sotto tutti i due punti di vista sia presso Dio con il figlio che nel nostro cuore insieme allo Spirito Santo e al suo sposo cominceremo a introdurre ovviamente queste cose a partire dal lunedì prossimo ora era importantissimo in questa prima presentazione che comprendessimo bene chi è da un punto di vista soprannaturale un avvocato cosa fa e perché ne abbiamo bisogno a causa dell'opera cattiva e infaticabile di colui che accusa ecco il resto lo vedremo se Dio vuole dalla prossima puntata grazie a tutti per la gentile attenzione alla prossima puntata ave Maria grazie a tutti Grazie a tutti